I carabinieri del Comando Provinciale di Palermo hanno condotto un'importante attività di indagine coordinata dalla Procura di Palermo, che si è conclusa con un'ordinanza di custodia cautelare a carico di un 22enne di Pioltello, accusato di reati inerenti alla pedopornografia e la detenzione di ingenti quantità di materiale pedopornografico, reati commessi ai danni di ragazze minori di 14 anni. Cogliamo l'occasione di questo importante risultato per invitare le famiglie a favorire il dialogo con i ragazzi, invitiamo i genitori a porre maggiore attenzione a lasciare i propri figli in mano i dispositivi, anche perché il periodo è particolare, la DAD gli impone di stare davanti a un computer anche per ore al giorno e invitiamo appunto a non lasciarli mai da soli. Invitiamo i ragazzi a segnalare qualsiasi situazione di pericolo in cui possano venirsi a trovare, se si trovano a venire a contatto con una persona che gli chiede di mostrarsi davanti a un obiettivo. Le nostre stazioni carabinieri sul territorio hanno personale preparato e disponibili ad ascoltare qualsiasi problematica e qualsiasi segnalazione e a dispensare importanti consigli alle famiglie per evitare spiacevoli incontri sul web.